Questo murale si è stato realizzato nel 2017. Era già da diversi anni che venendo ai giardinetti le mamme dicono «Eh, ma perché non si fa qualcosa su quel muro anonimo che si afface sui giardinetti, così brutto vederlo?» Allora io ho pensato «Eh, si potrebbe fare… si pesterebbe vero che è un bel muro, cioè un muro di 25 metri, altro 4 metri, quindi si poteva sviluppare qualcosa di importante». Allora ho pensato di sviluppare una storia, cioè di riprendere la natura che abbiamo qua a Toro. Visto che io ho fatto il guardiaparco per anni al Parco Naturale delle Alpi Marittime, ho pensato di riprendere un ambiente montano alpino in modo da inserire un po' di animali e un po' di piante. Poi, visto che sono a Vernaggio, ho detto «Ah, è un peccato non inserire la storia di Pinocchio». Allora, oltre agli animali, ho pensato di inserire le immagini di Pinocchio. Probabilmente ho ripreso le immagini originali di Mussino e sono partito da sinistra verso destra, ovviamente racchiudendo in questo muro tutta la storia di Pinocchio, ovviamente dalla nascita fino a quando diventa bambino. Alle nostre spalle abbiamo l'incontro con Lucinio, poi si sviluppa e poi diventano asinelli e così via. E quindi poi, oltre alla storia di Mussino, ho inserito anche nel murale la fauna alpina, la fauna delle nostre valli. C'è il camoscio, c'è il lupo, c'è il gallo forcello, c'è l'aquila. Quindi ho messo diversi animali rappresentativi che si incontrano all'interno del parco. Così anche i ragazzini, i bambini che vengono qua ai giardinetti imparano anche a conoscere gli animali che circondano le nostre montagne.